O il licenziamento o il demanzionamento professionale con il drastico taglio di stipendio. A Salerno tiene ancora a banco l'avvertenza dei 120 lavoratori delle sale bingo di Fratte e Pastena. Da ieri in sciopera, dopo la presentazione del piano alternativo al licenziamento proposto dalla società al tavolo di crisi aperto a Roma. Salerno continua nella mobilitazione, le maestranze sono in stato di agitazione permanente. Da qualche mese, dai primi di settembre, l'azienda Codere o per bingo ha mandato una procedura di licenziamento collettivo per 150 persone. E solo qui a Salerno hanno intenzione di chiudere ben due sale, questa di Fratte e quella di Pastena. Per evitare questi licenziamenti ha posto alcune condizioni che sono irricevibili per la dignità dei lavoratori. A partire dal livello organizzativo, vogliono abbassare i livelli occupazionali di due o tre livelli, poi problemi economici, ridurre soprattutto gli orari di lavoro per almeno il 50% dei lavoratori, la riduzione degli orari. Sono proposte che sono da considerare proprio nulle. Come si suol dire ultimamente che i lavoratori fanno fatica ad arrivare alla quarta settimana, con queste condizioni invece non arriverebbero neanche alla seconda settimana.